Elettrificare una corsia autostradale con una linea elettrica un po' come quella delle ferrovie per consentire ai camion che trasportano le merci di viaggiare anziché consumando gasolio, combustibili fossili e quindi inquinando l'aria a emissioni zero utilizzando solo l'energia elettrica e anche questo è il senso del progetto E-Highway presentato oggi a Brescia in questo convegno sulla mobilità elettrica organizzato da Brevemi un'idea interessante che la regione Lombardia intende sostenere perché abbiamo bisogno di idee nuove che aiutino ad avere una mobilità più sostenibile che sia più rispettosa dell'ambiente e al tempo stesso delle necessità di una economia sviluppata come quella Lombarda il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni in atmosfera sono la vera sfida di questi anni e trovare soluzioni innovative che mantengano la Lombardia tra le regioni all'avanguardia nel mondo su questi temi è l'obiettivo che una regione come la nostra deve assolutamente porsi dunque complimenti a Brevemi per questa proposta, adesso traduciamola rapidamente infatti Grazie Grazie